ciao ragazzi ben trovati con la terza puntata della mia rubrica la voce di kri inter e questa sera parliamo di champions quindi la nostra partita della partita del real delle situazioni del girone però prima vi volevo invitare a iscrivervi al canale inter for passion dove troverete rubriche live approfondimenti e tante cose carine per noi interisti partiamo dalla partita nostra di champions è una partita che oggettivamente ci lascia l'amaro in bocca e ci fa anche un po incazzare perché comunque l'inter ha creato tanto soprattutto nel primo tempo e non è riuscita non siamo riusciti a fare gol non siamo riusciti a segnare siamo stati anche un po sfortunati perché comunque oggettivamente abbiamo preso due traverse però sbagliamo sempre troppi gol questa sera è stata la volta di lautaro martinez che anche a genova non aveva fatto una gran partita stasera la forza l'ha fatta ancora peggiore perché anche nel primo tempo comunque ha avuto una grande occasione ma ha preso mal pallone nel secondo tempo l'ha preso ancora peggio a porta vuota per cui un errore sicuramente da matita rossa diciamo che il primo tempo a me l'inter è piaciuta di più pur non essendo ancora una squadra al massimo della forma e non avendo la stessa diciamo intensità e lo stesso ritmo che avevamo tre quattro mesi fa ma dopo il settantesimo la squadra è chiaramente calata di condizione e lì entrano in gioco quelli che secondo me sono un pochettino le colpe dall'allenatore perché diciamo che comunque è un po il problema che ci portiamo dietro anche dall'anno scorso che non abbiamo comunque un piano b quando troviamo una squadra che riesce a capire quelle che sono diciamo le nostre armi quindi quei quattro cinque schemi che noi usiamo più di frequente soprattutto in questo momento la palla su Lukaku e lo Shakhtar stasera ha triplicato quadruplicato Lukaku quando quando riceveva il pallone lo ha schermato e quindi andiamo andiamo in difficoltà maggior ragione se siamo in un periodo in cui non abbiamo tanto ritmo e l'intensità è poca l'abbiamo avuto un pochettino di più nel primo tempo ma comunque complessivamente non abbiamo avuto una grandissima intensità già a Genova avevamo fatto fatica e l'abbiamo fatta anche oggi sicuramente ci siamo trovati di fronte una squadra completamente diversa rispetto a quella che avevamo trovato ad agosto in Europa League perché è una squadra che oggi sinceramente a me ha stupito poi naturalmente se uno va a vedere anche la partita con Real Madrid avevano sostanzialmente usato lo stesso atteggiamento tattico quindi due linee molto basse e i due attaccanti che insomma erano pronti a ripartire in contropiede i tre attaccanti pronti a ripartire in contropiede e onestamente però probabilmente lo Shakhtar ha fatto tesoro anche di quella che è stata il 5 a 0 che aveva preso ad agosto detto questo ripeto l'errore è non avere mai un piano B pronto e altro errore è quello di ritardare di fare sempre troppo spesso tardi i cambi anche stasera secondo me c'era qualche elemento che aveva bisogno di essere cambiato prima Young per ovvi motivi arrivava da 15 giorni in cui non aveva avuto il covid per cui non aveva fatto allenamento era in quarantena è tornato disponibile solo domenica sabato domenica quindi aveva fatto pochissimi allenamenti e l'altro secondo me è Vidal perché Vidal ci mette sempre carattere ci mette sempre voglia però insomma in questo periodo e soprattutto nelle ultime tre partite quindi quella col Gladbach la scorsa settimana e a Genova comunque ha fatto tantissimi errori e dimostra che comunque anche complice all'età non è più il Vidal di una volta e bisogna cercare di tenerlo un pochettino di conservarlo un pochettino chiaramente questo discorso dei cambi ripeto è un discorso che noi ci portiamo dietro dall'anno scorso Conte su queste cose secondo me deve migliorare l'unica volta che siamo riusciti o che Conte ha deciso comunque di cambiare un pochettino sistema tattico di dare comunque una variante e di cercare di sorprendere l'avversario è stata con la Fiorentina che perdevi 3 a 2 comunque alla fine la partita l'hai vinta hai rischiato qualcosa ma l'hai vinta per quanto riguarda la situazione del girone beh sicuramente è stato ottimo il pareggio che è venuto fuori dalla partita di Gladbach tra il Borussia e il Real Madrid il Real Madrid sinceramente non mi ha fatto una grandissima impressione difensivamente è veramente un colabrodo però sappiamo il Real è sempre il Real i giocatori comunque li ha all'esperienza sono giocatori forti perché comunque insomma Hazard, Benzema, Sergio Ramos, Casemiro, Kroos, Modric insomma giocatori sarà una partita molto molto difficile dove però noi abbiamo le nostre chance certamente dobbiamo cambiare sicuramente un pochettino dobbiamo cambiare un pochettino marcia ma questo lo dicevo già nella partita col Genoa perché a questi ritmi difficilmente comunque riesci riesci a sorprendere l'avversario e con Real Madrid assolutamente è una partita che devi cercare a quanto meno a Madrid di non perdere per poi giocarti tutto in casa chiaramente dobbiamo vedere anche il risultato che esce fuori dalla partita tra Shakhtar e Gladbach sicuramente però è un girone che forse ci aspettavamo un pochettino più semplice almeno personalmente mi aspettavo un pochettino più semplice perché è vero che il Gladbach comunque è una squadra che l'anno scorso è arrivata terza in Germania però non me lo aspettavo così compatto, non me lo aspettavo così tonico è una squadra chiaramente tedesca quindi sapevo delle difficoltà però è vero anche che è una squadra tanto giovane per cui forse pensavo che fosse un pochettino più semplice giocare contro di loro, che si riuscisse a sorprendere lì invece hanno dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare lo Shakhtar invece è sempre lo solito, lo solito Shakhtar che comunque poi alla fine quando si arriva poi a novembre, dicembre molla anche un po' per il fatto che comunque il campionato loro comunque va a finire e di conseguenza comunque non hanno più la stessa condizione ora però testa al Parma perché il campionato è di nuovo alle porte e soprattutto concentrazione, attenzione perché il Parma è una squadra che negli ultimi due anni ci ha sempre creato tantissime difficoltà ce l'ha creato due anni fa con Spalletti quando nonostante noi avessimo fatto comunque una grande partita se avessimo giocato praticamente nella loro area con un tiro sono riusciti a vincere, un tiro di Di Marco e l'anno scorso sono venuti a San Siro e ci hanno creato innumerevoli problemi con Caramoggio e Ervigno e hanno portato via il pareggio per due a due quindi dobbiamo prendere con le molle questo Parma anche se chiaramente non è più il Parma dell'anno scorso ha cambiato allenatore, ha cambiato tanti giocatori è in un momento sicuramente di difficoltà anche per via delle tante assenze per il Covid però è una squadra di cui non bisogna fidarsi e soprattutto perché poi l'Inter non se lo può permettere perché noi poi gli errori e la poca concentrazione la paghiamo sempre a caro prezzo e non abbiamo tante volte la stessa fortuna che hanno gli altri quindi ragazzi ci sentiamo per analizzare l'Inter Parma sabato sera e mi raccomando vi ricordo di iscrivervi comunque al canale Interforpassion e vi auguro una buona serata ciao ragazzi